Sono diversi mesi che le ostetriche si propongono come professioniste sanitarie da inserire nella campagna vaccinale per poter accelerare la somministrazione dei vaccini. Per quale motivo le ostetriche sarebbero titolate a svolgere una mansione di questo tipo e quale contributo potrebbero offrire all'interno della campagna vaccinale? La prima domanda è molto semplice rispondere perché sulla base di un reggio decreto le ostetriche storicamente erano riconosciute dall'alto commissario, sto parlando degli anni 30-40, riconosciute come le professioniste in qualità di ostetriche condotte, quelle che promuovevano e sostenevano la comunità per l'approccio alle vaccinazioni disponibili. Quindi è storico nella professione ostetrica avere sostenuto la popolazione nella cosiddetta prevenzione primaria. Perché lo dico? Perché nelle nostre ripetute richieste, fin da quando è stato disponibile il vaccino in Italia, è stato chiarito proprio questo, che l'attività nell'ambito della vaccina profilassi è proprio una specificità della professione ostetrica, ma che faceva e che fa nell'ambito di specifiche attività vaccino di vaccino profilassi, mi riferisco alla vaccinazione HPV in tutte le fasce di età, mi riferisco alla vaccinazione per la rosolia, quella per la pertosse che si fa in gravidanza, quella per l'influenza che si fa in gravidanza. Quindi è un qualcosa che ci ha messo veramente politicamente in crisi quando il commissario Arcuri ha emesso il decreto del quale faceva l'elenco dei professionisti vaccinatori e non includeva l'ostetrica. Quindi da quel momento la federazione ha ripetutamente richiesto che le ostetriche fossero ammesse. Anche quando adesso agli inizi di marzo è cambiato il commissario e quindi è intervenuto ad Arcuri un militare Figliuoli, a lui in data 8 marzo abbiamo inviato un'ulteriore nota nella quale abbiamo ricordato il ruolo storico delle ostetriche, la piena competenza come profilo di attività e responsabilità prevista dalla legge 4299, perché sono conoscenza, abilità e competenze che acquisisce nel percorso formativo di base. Qual è la perplessità? È che nel momento in cui c'è la competenza, c'è la disponibilità, ma se non c'è qualcosa che va a modificare quello che è il decreto Arcuri, potremmo avere delle difficoltà in termini di mancata garanzia che in caso di evento avverso l'ostetrica possa rientrare in quella che è la copertura assicurativa.